Era la partita che dovevamo vincere quasi per forza, perché visto comunque le partite precedenti ci siamo fatti rimontare, oggi l'unica cosa che contava era vincere. Ce lo siamo detti prima della partita, non era tanto la prestazione ma veramente la vittoria che comunque ci dava un po' di fiducia e alla fine è arrivata. Quanto conta lasciare l'ultimo posto? Sicuramente ti aiuta anche un po' per il morale, per la fiducia di tutti i giocatori, perché quando non riesci comunque a vincere è sempre difficile ripartire, le settimane sono lunghe. Per fortuna abbiamo portato a casa questa vittoria importantissima contro comunque una squadra che sta lì a un punto da noi e siamo veramente molto contenti. Mi piace attaccare alla palla e cercare di fare gol, ogni tanto ci riesco, dopo il gol con Novara era già da un po' di tempo che non riuscivo a fare gol. Sono contento perché poi questo gol ha portato anche tre punti alla squadra, quindi è quello che contava di più. Dopo tanto tempo una vittoria in casa, una vittoria senza prendere gol? Sicuramente anche questo da molta fiducia, sia al reparto arretrato ma anche a tutta la squadra.